Deve operare di appendicite di voi? Lui, lui. Su, forza, sbrighiamoci, il professore ci sta aspettando. Eh, ma io già sono stato operato di appendicite quattro anni fa. Eh, quello l'appendicite una è, ecco qua, me l'hanno tolto. Ah, è vero, allora è lei che deve fare l'appendicite. E lei si deve operare di emorroidi col dottor Stumer. Sì, giusto. No, che emorroidi! Salva tu, è meglio che stai andiamo, se no qua ti fanno un culo come la zampugna. Vi andiamo, uscimo dalla finestra, su. Sì, andiamo, se no mi fanno scendolo veramente l'emorroidi.